Prosegue il Festival Combinazioni con incontri importanti come quello svoltosi domenica 16 settembre nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna con i ragazzi dei Corpi Civili di Pace. La prima impressione è sempre quella di spaesamento iniziale, comunque pur avendo già avuto delle esperienze in America Latina sei sempre in un contesto nuovo dove devi imparare tutto da zero, soprattutto nel contesto di lavoro è assolutamente importante stringere delle relazioni personali importanti con i tuoi colleghi e delle relazioni di fiducia quindi sicuramente questo ha avuto bisogno di un po' di tempo, questo creare la fiducia insieme alle persone. Una collaborazione con il Centro dei Riti Umani per testimoniare esperienze fatte nelle aree di conflitto, a rischio di conflitto e di emergenza ambientale. La prima cosa che mi è rimasta in mente di Lima, io ero a Lima in Perù, è stata la disuguaglianza e a Lima è molto chiaro ed evidente perché è una città con circa 11 milioni di abitanti dove si alternano dei quartieri che sono ricchissimi, dove sembra di stare a Miami con altri dove si tratta sostanzialmente di baraccopoli dove però la gente vive e conduce una vita che nella povertà è comunque dignitosa e ci sono centinaia di migliaia di persone che ogni giorno dalle periferie più esterne di Lima arrivano verso il centro città per lavorare. Allora anche i turisti più distratti buttano la via sigaretta e si guardano tutte tra la punta dei piedi tutti quanti guardano il terreno. La giornata di domenica si è quindi conclusa al Teatro Comunale di Trevignano con lo spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini, Il Muro testimonianza di storie vere di chi non si è mai arreso davanti alla barriera ignobile ed ingiusta del Muro di Berlino. Tutti i giorni sia online, sui social, in televisione abbiamo la possibilità di intrattenerci in un sacco di occasioni le occasioni per non pensare sono tantissime, le occasioni per passare il tempo, per divertirsi, per svagarsi, per rilassarsi sono tante magari sono minori le occasioni invece per trovarsi a riflettere anche su questioni un po' personali e noi abbiamo deciso un po' di occuparci di questo, cioè fare in modo che i nostri spettacoli siano ovviamente affascinanti e emozionanti ma soprattutto che possano far riflettere e quale migliore occasione o scenario di riflessione se non la storia del nostro secolo e la storia dalla quale noi stessi deriviamo. Il partito resta in silenzio, poi il 4 giugno 1989 senza che nessuno se l'aspettasse comanda l'esercito di reprimere la rivolta nel sangue La selezione che cerchiamo di fare noi è quella che permette allo spettacolo di raccontare un po' tutta la storia ad esempio nel muro abbiamo visto le persone che hanno tentato e non sono riuscite le persone che invece ce l'hanno fatta, che invece ha subito la costrizione, la segregazione da parte dei servizi segreti quindi ecco cerchiamo, la verità secondo me c'è sempre, nel senso un testimone ti dice la sua esperienza che quindi è reale e cerchiamo di raccontare nello spettacolo un po' tutto, dare tutte le sfumature di quello che ascoltiamo In effetti la pace è l'assenza del conflitto, l'assenza della guerra, la possibilità di vivere appunto in pace, in tranquillità senza che non ci siano sofferenze, morti eccetera e molto spesso soprattutto quando siamo nelle scuole i ragazzi ci chiedono qual è il segreto per la pace, come si costruisce la pace per tanto tempo ho pensato che la risposta fosse molto complessa e invece più vado avanti anche incontrando queste storie e più mi rendo conto che la costruzione della pace è molto più semplice e banale di quanto crediamo è come se tu mi chiedessi come si fa a imparare ad andare in bicicletta, come si fa a camminare correttamente l'importante è semplicemente non inciampare, non cadere, quindi avere la memoria dei nostri sbagli questo è il problema, appena ci dimentichiamo di quello che è stato allora la guerra ritorna ma basterebbe semplicemente fare memoria di quello che è avvenuto, degli errori per non commetterli più è veramente molto molto semplice, abbiamo commesso tanti errori che hanno portato a guerre e conflitti se non li dimentichiamo l'effetto sarà semplicemente quello di non ricommettere questi sbagli e quindi di non ricreare queste situazioni il problema, e tante pagine della storia moderna ce lo confermano abbiamo una rimozione selettiva della memoria no, non è mai stata, questa brutta cosa non è mai avvenuta, non succederà mai più oppure i missili sono intelligenti, non uccideranno le persone o sicuramente non scoppierà una guerra a fronte di affermazioni magari super razziste o movimenti magari estremisti, eccetera e invece basterebbe semplicemente aprire il libro di storia per scoprire che invece le cose portano esattamente in quella direzione e quindi la memoria, ricordare, senza dover fare chissà che cosa ma non dimenticare, già questo ci dà gli anticorpi per non commettere più gli stessi errori e se non li commettiamo la pace è praticamente garantita, ecco poesia soprattutto, è un sogno, nonostante siano così giovani seguendo l'esperienza della Rwanda, ci sarà un film Il Muro? guarda, non sai, questa domanda arriva proprio così, in un momento particolare stiamo pensando a quello che sarà il futuro di questo spettacolo sicuramente ci sarà un muro video stiamo lavorando in questo momento alla sua forma e non lo sappiamo però, sì sì davvero, guarda domani ci vediamo con la produzione per decidere e sì, sarà qualcosa di speriamo particolare, sperimentale e che possa trasmettere come lo spettacolo questo bel messaggio di libertà e dell'importanza di sognare, di seguire i propri sogni per essere felici e forse per evitare un po' il discorso di prima di Marco non so, se immagino un mondo di persone felici, immagino anche un mondo in pace e speriamo grazie, grazie a te